10, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 1, vai, vai, 70, sinistra 3 più, per destra 4 apre, 4 apre 20, sinistra 4 per destra 4, 30, alla zebra destra 4 apre, 4 apre 20, e chicane introdestra, sai a destra vai, sinistra 4, 70, piega sinistra per tornante destro largo piega sinistra, piega sinistra per tornante destro largo, è qua subito sinistra 4 apre, 70, destra 4 tieni, 4 tieni, non andare troppo destra, subito tornante sinistro, subito largo, 20, destra 5, 30, destra 5, 70, e attenzione chicane introdestra 100 a vista Andre, cartello sinistra 4, chiude 2 alla zebra, 4, chiude 2 alla zebra per destra 3 più lunga, lunga lunga e apre, e subito attenzione sinistra 2 per destra 3 apre, 3 apre, per sinistra 3 più, 3 più, 20, destra 4, 4, in sinistra 3 due tempi, sinistra 3 due tempi qua, in destra 3 più, 3 più in sinistra 3 apre, 30, destra 3 più, 3 più apre, 20, sinistra 3 al blu, sinistra 3, destra 4 diventa 3, 4 diventa 3, in sinistra 3 per destra 4, per sinistra 3 meno al rosso, 3 meno, per destra 4 apre, 4 apre lunga, 30, cartello sinistra 3 più apre, cartello sinistra 3 più apre, 40, sinistra 4 apre, 4 apre, 20, piega destra 50, cartello bianco, sinistra 4, sinistra 4, 20, convinto André, vai 4, destra 4 chiude 3 al rovescio, 4 chiude 3 al rovescio, lunga e poi 20, piega sinistra, 30 e attenzione non si vede, destra 2 chiude secca 2 tempi, dentro qua eh, subito stai sinistra, stringe la destra 2, 10, chicane, sinistra destra scende, 50, sinistra 3 sporca, 3 sporca, per destra 4 lunga apre, 70, zebra destra 3 chiude, 3 chiude poco eh, 20, rosso sinistra 3 più, 3 più, per destra 3 lunga lunga, e subito sinistra 2, sinistra 2, sinistra 2, cartelli sinistra 3, per destra 4, 20, destra 3 più apre, 3 più apre, 20, destra 3, 20, 20, via sinistra 2, sinistra 2 sporca, occhio, piega destra, sinistra 3 lunga, 150 vista, via, tutto giù, rosso destra 4 più, 4 più, 50, cartello sinistra 4, diventa 3, cartello sinistra 4, diventa 3, e butta alla 3, e alla zebra, attenzione, subito destra 3 meno, sinistra 4, destra 4 più lunga, per sinistra 4 apre, 20, piega destra, e attenzione non si vede, dopo casa prete, sinistra 2, chiusa e secca, 70, alle colonne, destra 2, secca e sporca, tirala un po', destra 3, 30, sinistra 4 più lunga, da che finita, 4 più lunga, 20, chicane entra destra, 50, vai, sinistra 5, vai, 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 stop